Cosa si sente di dire direttamente alle persone che utilizzeranno, in particolare ai pendolari, che utilizzeranno questi treni? Questi sono treni che cambieranno la vita dei pendolari, soprattutto per il livello qualitativo molto alto, per l'alta tecnologia. Oggi sappiamo quanto è importante avere dei treni che abbiano alti contenuti di tecnologia, ma soprattutto saranno treni che in qualche maniera andranno a soddisfare anche i bisogni delle persone, perché saranno treni più capienti, più moderni e quindi con un alto coefficiente di comfort. La musica sta cambiando, quando potremmo dire che sarà cambiata? Nell'arco di piano abbiamo investimenti per 6 miliardi di euro per quanto riguarda l'acquisto di materiali, 4 miliardi per gli aspetti della digitalizzazione nei rapporti con il cliente, quindi diciamo che siamo sulla buona strana e credo che nell'arco di 2-3 anni noi avremo già in maniera significativa cambiato il paese.